In questo tutorial vediamo degli esempi di problemi numerici risolubili con le disequazioni di primo grado. Partiamo da questo primo esempio. Aggiungendo alla somma di due numeri pari consecutivi, il triplo del maggiore dei due numeri, si ottiene una quantità maggiore di 108. Calcola quali sono i valori più piccoli che possono assumere i due numeri. Per risolvere questo esercizio indichiamo con 2x un numero pari. Il consecutivo pari di 2x si scrive 2x più 2. Dal testo sappiamo che se aggiungiamo alla somma di due numeri pari consecutivi e allora scrivo primo numero pari 2x più il secondo numero pari 2x più 2 e aggiungiamo ora il triplo del maggiore. Il maggiore tra i due numeri risulta essere 2x più 2 e allora devo scrivere più 3 volte di 2x più 2. In questo modo otteniamo una quantità maggiore di 108 e allora vuol dire che tutta questa quantità risulta essere maggiore di 108. Otteniamo così una disequazione che andiamo a risolvere. Sommo come prima cosa 2x con 2x e scrivo 4x poi più 2x più 2 ed ora eseguo questa moltiplicazione più 6x più 6x maggiore di 108. Sommo ora 4x più 6x ed ottengo 10x. Sommo 2 più 6 ed ottengo 8 che scrivo a secondo membro quindi scrivo maggiore di 108 meno 8. 10x maggiore di 100. Divido ora tutte e due membri per 10. In questo modo semplifico il coefficiente della x. 100 diviso 10 ottengo 10. Ottengo così x maggiore di 10. Il testo mi chiede di andare a calcolare quali sono i valori più piccoli che possono assumere i due numeri. Il primo valore accettabile deve essere un numero intero maggiore di 10 e allora il primo valore risulta essere 11. Questo vuol dire che al posto della x sostituisco 11. 2 per 11 ottengo 22 e 2 per 11 è pari a 22 più 2 ottengo 24 e allora i numeri cercati sono 22 e 24. Vediamo questo secondo esempio. La somma di due numeri naturali di cui uno è il quadruplo dell'altro è minore di 75. Determine il massimo valore dei due numeri. Per risolvere questo esercizio indichiamo con x il primo numero. Il secondo numero risulta essere il suo quadruplo e allora scrivo 4x. Dal testo sappiamo che se sommiamo questi due numeri e allora scrivo x più 4x otteniamo una somma minore di 75. Ottengo una disequazione che vada a risolvere. x più 4x ottengo 5x minore di 75. Divido ora tutte e due membri per 5 e semplifico il coefficiente della x. A secondo membro 75 diviso 5 risulta essere 15. Ottengo così x minore di 15. Il testo mi dice di andare a determinare il massimo valore possibile dei due numeri. Visto che i numeri che dobbiamo andare a determinare sono numeri minori di 15 e devono essere numeri naturali, l'intervallo soluzione è composto dei numeri che vanno da 0 fino a 14. Il massimo di questi valori risulta essere 14. Questo vuol dire che x sarà pari a 14, il secondo numero sarà pari a 4x14 e si ottiene 56. La somma di due numeri dispari consecutivi è maggiore di 45. Trova quali sono i due numeri naturali più piccoli che soddisfano la relazione. Per risolvere questo problema indichiamo il primo numero dispari con 2x più 1. Il consecutivo dispari sarà pari a 2x più 3. Dal testo sappiamo che se sommiamo questi due numeri dispari e allora scrivo 2x più 1 più 2x più 3 otteniamo una somma maggiore di 45 e allora scrivo maggiore di 45. Ottengo una disequazione che vado a risolvere. 2x più 2x scrivo 4x maggiore 1 più 3 pari a 4 che scrivo a secondo membro e quindi abbiamo 45 meno 4. Abbiamo così 4x maggiore 45 meno 4 ottengo 41. Ora divido tutte e due membri per 4 e semplifico il coefficiente della x. Scrivo ora 41 quarti in forma decimale ed otteniamo x maggiore di 10,25. Il testo chiede di andare a determinare quali sono i due numeri naturali più piccoli che soddisfano la relazione. Visto che abbiamo ottenuto x maggiore di 10,25 il primo numero naturale ammissibile risulta essere 11 e questo è il più piccolo numero naturale che possiamo andare ad accettare. E allora sostituendo al posto della x 11 otteniamo 2 per 11 che è pari a 22 più 1 ed ottengo 23. 2 per 11 è pari a 22 più 3 ed ottengo 25. E allora i due numeri naturali più piccoli che soddisfano questa relazione sono 23 e 25. Passiamo a questo quarto esempio. Determine i valori di x appartenenti ad r tali che la somma tra x, la sua metà e la metà della sua metà superi il triplo di x al meno di 10. Per risolvere questo problema scriviamo x e poi lo sommiamo alla sua metà, ossia più un mezzo x. Poi dobbiamo sommare la metà della metà, ossia un quarto x. Tale somma deve superare, e quindi scrivo maggiore, il triplo di x, 3x, almeno almeno di 10 e allora aggiungo più 10. Tale somma deve superare il triplo di x di almeno 10. Visto che vi è almeno dovrò scrivere maggiore o uguale e poi il triplo di x si indica con 3x e poi aggiungo più 10. Ottengo così una disequazione che vado a risolvere. Come prima cosa eseguo il minimo comune multiplo in tutte e due membri, risulta essere 4. 4 per x ottengo 4x, 4 diviso 2 è 2 per x e scrivo più 2x, poi 4 diviso 4 è 1 per x e scrivo più x. A secondo membro moltiplico 4 per 3x ed ottengo 12x. 4 per 10 ottengo 40 e allora scrivo più 40. Semplifico i denominatori, a primo membro sommo 4x più 2x più x ed ottengo 7x. Porto 12x a primo membro, meno 12x, maggiore o uguale di 40. Visto che il coefficiente della x è negativo, moltiplico tutte e due membri per meno 1 e cambio verso 5x, meno o uguale meno 40. Divido ora tutte e due membri per 5 e semplifico il coefficiente della x. 40 diviso 5 è pari a 8 ed ottengo x, meno o uguale, di meno 8. Vediamo quest'ultimo esempio. Determina per quali valori di k l'equazione 3 meno k per x meno 5 uguale a 0 ammette soluzione positiva. Come prima cosa vado a ricopiare l'equazione 3 meno k per x meno 5 uguale 0. L'incognita risulta essere x e vado a risolvere quest'equazione. Come prima cosa porto meno 5 a secondo membro, 3 meno k x uguale 5, e poi divido tutte e due membri per il coefficiente della x, 3 meno k. In questo modo semplifico il coefficiente di x. Ottengo come soluzione x uguale 5 fratto 3 meno k. Il testo mi chiede per quale valore di k la soluzione risulta essere una soluzione positiva. In altre parole, questa soluzione 5 fratto 3 meno k deve essere una quantità maggiore di 0. Affinché questa quantità risulti maggiore di 0, tenendo presente che 5 già è una quantità positiva, allora il denominatore 3 meno k dovrà essere una quantità positiva. E allora dovrò imporre che 3 meno k deve essere una quantità maggiore di 0. Ottengo così una disequazione che vado a risolvere. Porto il 3 a secondo membro, meno k maggiore di meno 3. Moltiplico ora tutte e due membri per meno 1 e cambio verso, ed ottengo k minore di 3. E allora per valori di k minori di 3, quest'equazione ammette una soluzione positiva. E con questo termino il tutorial su esempi di problemi numerici risolubili con le disequazioni di primo grado.